Sante ignati antiochene Era la primavera del 2005, i primi giorni di aprile. Moriva Giovanni Paolo II e l'Italia andava alle urne. Si dovevano scegliere i governatori di una dozzina di regioni. La procura di Milano indagava su Luigi Crespi, il sondaggista del premier Silvio Berlusconi, l'inventore del contratto con gli italiani, firmato in diretta televisiva a porta a porta, e sulla società demoscopica di Crespi, l'HDC. Con lui era in contatto anche Deborah Bergamini, l'ex segretaria del Cavaliere, promossa ai piani alti di Viale Mazzini nel 2002, sulla poltrona di vice direttore marketing strategico della RAI. Il suo telefono, come quello di altri, finisce sotto controllo e dalle telefonate della Bergamini esce un quadro disarmante di cos'era la RAI in quei giorni, una fabbrica di informazioni ritardate o fuorviate per scopi politici. La RAI così non mi serve. Ok, ma è da non averla. Ah, va benissimo anche quella. Basta saperlo. No, basta saperlo, perché averla senza averla abbiamo visto che non funziona. Sì, ma guarda che io, che da questa parte, lui dovesse avere il minor numero di danni possibile. Allora, l'informazione deve essere un presidio anti-guai. All'opera c'erano gli uomini del dottore, come gli intercettati chiamavano ossequiosamente Silvio Berlusconi. Una squadra all'interno della RAI, soprattutto di RAI 1, che lavorava per creare consenso e una struttura capace di monitorare tutto. Stasera voi non è che riuscite a mettere una bomba su Canale 5, perché guarda che la vedo male per i voti. Noi facciamo la prima serata sul 2, però me non la vedono meglio. Il giornalista Giuliano Ferrara, citato nelle telefonate, chiama la Bergamini spia, gettando un cono d'ombra sul lavoro dell'ex assistente di Berlusconi in RAI, apparso non troppo distante dagli interessi di quello di un concorrente, come Mediaset. Debora Francesco. Ciao Francesco, come stai? Bene, bella. Tu mi hai visto che ti hanno pizzicato pure a te sul foglio. Ah no, che dico, no? Ma cazzate, un pezzo non so di chi sul nuovo Consiglio d'Amministrazione RAI. Vabbè, fanno tutte proposte ridicole, giustamente, di provocazione, tipo l'avventura, poi dico un passaggio da Bergamini, che scherzando, che sta lì a fare la spia. Ma Ferrara perché è così, insomma, abbastanza fronzetto, con le nostre confronti? Non lo so, veramente, guarda. Gli uomini al lavoro con i loro incarichi di allora erano, oltre alla Bergamini, Alessio Gorla, consigliere RAI della maggioranza, Clemente Mimun, direttore del Tg1, Fabrizio Del Noce, direttore di RAI1 e Gianfranco Comanducci, responsabile delle risorse umane dell'azienda televisiva di Stato. Io Berlusconi non lo chiamo perché cosa gli dico? Tanto lo sappiamo cosa fare. Ma appunto è stato un medio sessore di Marteglio, ha capito, no? Sì, sì, solo che lui gli dico che guarda i panini testi, quindi è fuso, non dire, coinvolge queste robe qua. Senti, teniamo più duro possibile, insomma. Serto, va bene. A dopo, ciao.